A BOLZANO In pista Coppis freccia primo davanti a Kübler e Koblet. Ottavo sarà Magni che riprenderà la maglia rosa. Ora si va in Svizzera dove troveremo nei 2150 metri del passo del forno la maggiore difficoltà del giro. Fiorenzo Magni, il terzo uomo, la supererà senza perdere tempo prezioso, assicurandosi così la vittoria finale. Decisivo sarà l'aiuto di Bartali, come documenterà il film che la Incom ha girato in collaborazione con la Gazzetta dello Sport. Sulla vetta Fausto sarà primo con mezzo minuto su Kübler, Bobet e Koblet. E adesso a 20 chilometri da traguardo Koblet fiutando aria di casa ha piantato tutti per arrivare solo a St. Moritz. Ultima tappa. I 75 superstiti dato l'addio alla neve discendono verso il sole di Milano. Tappa dell'apoteosi per Fiorenzo, il terzo uomo, ormai inattaccabile vincitore assoluto. Chilometri di applausi per lui e per tutti. Festa per i protagonisti al Bigorelli, dove Bevilacqua vince l'ultima tappa. Quando nel 48 iscrisse per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro dei vincitori del Giro, Magni trovò al Bigorelli più fischi che applausi. Oggi invece gli applausi sono unanimi, li ha ben meritati. Ma Fiorenzo vuole dividervi anche con Fausto. E soprattutto con chi lo ha aiutato nella tappa più dura, Gino. Colui che lo ha fraternamente sorretto affinché il vincitore del Giro quest'anno fosse un italiano.